Maria Lecerina, come commenta questo rinvio deciso dall'Ufficio di Presidenza? Sicuramente il rinvio c'è stato, il rallentamento c'è stato, questo è dovuto all'implosione della maggioranza che avevamo costruito per colpa dei 5 Stelle e del loro passo indietro. Stupisce che Di Maio e il Direttorio abbiano voluto commissariare il gruppo dei senatori con i quali avevamo lavorato bene e con coerenza fino adesso. E' chiaro che ognuno si prenderà le sue responsabilità ma il PD vuole fare la legge, vuole fare una buona legge e vuole garantire i bambini e le famiglie Arcobaleno.